forse intuiremmo publio cornelio tacito 55 117 senatore oratore storico romano in annali dice quelli che si lamentano di più sono quelli che soffrono di meno commento se ci distogliessimo per un attimo dalla lamentela del vivere che così spesso ci opprime forse intuiremmo che il nostro lamentarci è il giusto riflesso della condizione umana che non a caso è la stricata di sofferenza